ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi continueremo a giocare a aerotrack simulator 2 con la mappa italiana allora ragazzi la mappa italiana allora praticamente ragazzi è successo che mi sono preso questo camatz ragazzi e l'ho personalizzato praticamente tutto certo tutto personalizzato praticamente è una cosa una figata ragazzi faccio vedere anche com'è da fuori come l'ho fatto fuori faccio vedere eccolo questo sono le luci spente poi c'è anche queste quelle sono spente va bene va beh comunque adesso ci facciamo un viaggio andiamo da da aquila fino cioè dobbiamo andare all'aquila partiamo subito ragazzi ora ragazzi appena non appena finisco di fare il video ecco anche se non vi porto oggi live la live di volevo portarvi anche la live di formula 1 che non riesco contro oggi è una volta domani prendiamo sto luci spente no si calcola doveva fare vabbè non è successo niente sono di nuovo qua praticamente vabbè mettiamo prima niente ragazzi poi poi devo scaricare la demo di proprio vision e così ve la porto però dalla versione 4 questa cosa mi ricordo sempre che sto giocando con la mappa italiana poi ho chiesto un prestito e mi sono ingrandito il garage c'è il mio cane che mi sta troppa di cane è stata domani cioè ok poi non so se questo video ve lo capisco domani ragazzi cioè domani sarebbe giorno 6 uno 7 vabbè vabbè stiamo va bene le prime macce ragazzi nemmeno le uso le prime macce partiamo poi finalmente ho cambiato connessione ragazzi ho cambiato e così i video ve li posso portare più frequentemente ragazzi no ragazzi questo camion è una figata veramente è bellissimo no ho sbagliato strada va bene dai non è possibile che sbagli sempre strada non è giornata oggi vediamo se c'è uno svincolo ci mettono un po' di più vabbè ragazzi poi questa parte magari ve la taglio vabbè dai facciamo manovra e poi recuperiamo anche se non potrei farla abusivamente allora ragazzi riprendiamo da dove siamo rimasti scusate io prima ma siccome mi è squillato il telefono ho dovuto spegnere dobbiamo fare 300 km allora ragazzi questo video ve lo carico domani cioè lo vedo domani e niente dopo vi porto anche formula 1 la live quanto mancano 800 km ci facciamo subito subito ragazzi scusate questo camion sportiveggiante questo camion sportiveggiante intanto ci giriamo tutta questa mappa ragazzi intanto ci giriamo tutta questa mappa ragazzi quindi il carburante si consuma facilmente anche se non vado troppo veloce però però devo dire che cammina abbastanza anche pur essendo un e ci vuole ancora un bel po' ragazzi però piano piano che arriviamo a destrazione mettiamo la freccia e dopo giochiamo a formula 1 facciamo tutte le prove libere tutto quanto facciamo speriamo che entri qualcuno pure questa è salita no questo motivo ci mette un po' a salire e poi ci mette un po' a salire un po' a salire e poi ci mette un po' a salire la freccia dai, più o meno abbiamo recuperato ragazzi il piloni che abbiamo perso prima diciamo che l'abbiamo recuperato dai c'è metà pieno già mamma mia, sto bagno, quanto beve mamma mia beve un pozzo ragazzi, sto camion beve tantissimo ho messo consumo reale quindi non male più di 116 non cammino vabbè piano 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 piano, dai ragazzi sempre a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi continueremo a giocare a Aerotrack Simulator 2 con la mappa italiana allora ragazzi praticamente ragazzi è successo che mi sono preso questo Kamatz ragazzi e l'ho personalizzato praticamente tutto cioè l'ho tutto personalizzato praticamente è una cosa una figata ragazzi allora faccio vedere anche come è da fuori come l'ho fatto fuori vi faccio vedere eccolo queste sono le luci luci spente luci spente poi c'è anche queste quelle sono spente va bene vabbè comunque adesso ci facciamo un viaggio andiamo da da Aquila fino cioè dobbiamo andare all'Aquila partiamo subito ragazzi ora ragazzi appena non appena finisco di fare il video cerco anche se non vi porto oggi live la live di la live di voleva portare anche la live di formula 1 che me lo rirescontro oggi era la volta domani prendiamo subito ci spediamo ricarcolo devo fare vabbè non è successo niente sono di nuovo qua praticamente vabbè ci mettiamo prima niente ragazzi poi poi devo scaricare la demo di proprio uscio e così ve la porto proprio dall'apertition 4 questa cosa è Mi ricordo sempre che sto giocando con la mappa italiana, poi ho chiesto un prestito e mi sono ingrandito il garage, c'è il mio cane che mi sta, cazzo, troppa de cane è stata domani, poi non so se questo video ve lo capisco domani ragazzi, domani sarebbe giorno 6, giorno 7, vabbè, giorno 6, giorno 7, basta, facciamo un pacchetto veloce veloce, e non so se questo video, non so se questo video, non so se questo video, 70 chilometri atto ragazzi, poi li facciamo subito subito, adesso c'è la discesa, andiamo a Bombazza, andiamo sportiveggianti, anche se questo camion consuma abbastanza, forse c'è il sabatoio piccolo, molto probabile, quanto è che ho fatto il pieno, posso fare un massimo di viaggi, che si consuma, traburante. Ho messo pure una macchinina ragazzi, ho messo, aprivi. Stai per finire il casino, bene, bene. Siamo arrivati, la prossima volta metto il pieno. La spia sta accendendo già, vabbè posso fare ancora tanti chilometri, quindi sto a posto, girare di qua. Vabbè in teoria potrei anche farla la benzina, però non preferisco di no, dai. faccio poi quando me ne vado da qui, ve la faccio al donno. sono arrivati, eh. ho sbagliato l'entrata scusate ragazzi come che devo vaccheggiare qua dai siamo arrivati piano e saldi importante è quello basta ragazzi a bombazzo perfetto ragazzi perfetto la prossima volta ragazzi ripartiamo da qui e facciamo anche il pieno allora ragazzi io direi che con questo video ci salutiamo qui spero che il video vi sia piaciuto ragazzi iscrivetevi sempre se volete lasciate un mi piace sempre se volete ovviamente condividete se ne abbiate voglia un saluto da Steffi Gaming ciao ragazzi alla prossima ciao ciao ciao